Nonostante la vittoria del centro-destra con la neosindaca leghista Elena Pavan e i suoi 14.311 voti, Bassano ha dimostrato ancora fedeltà per l'ex primo cittadino Riccardo Poletto, oggi in opposizione capolista di Bassano Passione Comune, che ha registrato 715 preferenze, guadagnandosi così il primo posto tra i consiglieri eletti in questa tornata elettorale. Secondo posto, 698 voti per Roberto Marini, impegno per Bassano, seguito dalla leghista Tamara Bizzotto 522, Oscar Mazzocchin, Bassano per tutti 489, Marina Bizzotto collega di lista di Marini 345 e l'ex vice sindaco DEM Roberto Campagnolo con 334 preferenze, distanziato di soli due punti, 332, dal leghista Andrea Viero. E poi via via diamo uno sguardo agli altri eletti, maggioranza con Lega Stefano Facchin, Mavizzanata, Mauro Zen, Giada Pontarollo, Nicola Schirato e Roberto Gerin, Forza Italia Mariano Scotton, Pavan sindaco Ilaria Brunelli, Andrea Zonta, Alessio Savone e Riccardo Torre. In opposizione per il PD Giovanni Cunico, Chiara Campane e Paola Bertoncello, Bassano Passione Comune e Anna Taras. Senza dimenticare i due candidati a sindaco che ora siederanno sui banchi del consiglio comunale di via Matteotti, Angelo Vernillo e Bruno Trevisan. Grazie.